La qualità prima di tutto si è alta ancora meglio, lo sanno bene i produttori di olio extravergine di oliva del territorio a nord di Bari che chiedono però maggiore attenzione da parte delle istituzioni, Unione Europea soprattutto. Non piace la nuova politica agricola comunitaria, diminuisce il valore delle integrazioni agli agricoltori. Dal consorzio extravergine di qualità tornano a pretendere impegno da parte dell'Italia a Bruxelles, il settore a forte rischio. Io sono francamente molto preoccupato di quello che è la nuova politica agricola comunitaria, che veramente se questa politica va nella direzione che ci ha mandato giù Bruxelles, l'Italia non modifica completamente la cosa. Io credo che l'olivicoltura è veramente la fine, la morte delle nostre imprese, delle nostre aziende. Potrà succedere quello che è già successo nell'olivicoltura dell'Ecesa e quindi pensate al danno ambientale e territoriale di tutto questo insieme. Quindi mi auguro che l'Italia possa recuperare sotto il profilo della PAC, della politica agricola comune, dando agli olivicoltori quel qualcosa in più che meritano per occupare e per andare avanti. La ricetta è l'aggregazione, portare il made in Italy nel mondo, usare il nostro prodotto, l'olio extravergine di oliva per esempio, nelle cucine di altri paesi. Fa bene alla salute, spiegano ad Andrea, testimonial, anche della lotta contro il cancro, prodotto di alta qualità. Un prodotto di alta qualità significa un prodotto che è confezionato con dei parametri particolari in sostanza. Noi col Ministero stiamo lavorando per un disciplinare di alta qualità.